Musica Musica Ci troviamo in un angolo di paradiso, ancora sconosciuto ai più, compreso me. Si tratta dei bagni di San Filippo, una piccola località termale in Val d'Orcia, nel sud della Toscana, alle pendici del Montamiata. Una meta ideale per rilassarsi nelle terme naturali e ad accesso libero, a diretto contatto con la natura, per curare lo spirito e il proprio corpo. Era la fine di giugno ed io percorrevo con la mia bicicletta la via Cassia, qui a Valde. E per me non era altro che la via Francigena, che mi avrebbe portato fino a Roma, San Pietro, dopo essere partito dal colle del Gran San Bernardo, in Svizzera. Conoscevo l'esistenza di questo luogo, me ne avevano parlato, ma la via Francigena non ci passa e io prosegui dritto verso Roma. Oggi siamo verso la fine del mese di agosto e qualche giorno di vacanza qui in Toscana con la mia famiglia, beh, non potevo certo mancare a venire a visitare questo luogo. Luogo in cui la natura si veste da grande artista, scolpendo e dipingendo paesaggi da favola, affascinanti, straordinari. E' una cosa che si vede da grande artista, che si vede da grande artista, che si vede da grande artista. Una di queste è chiamata la balena bianca, che nell'immaginario popolare assomiglia molto da vicino alla celeberrima Moby Dick di Melville. Continuiamo a scendere lungo il Fosso Bianco, un torrente immerso nel bosco, dove confluiscono diverse sorgenti di acqua calda, in un susseguirsi di pozze, dove è possibile fare il bagno tutto l'anno. E pensate che l'acqua che fuoriesce dal sottosuolo arriva anche a 48 gradi. I bagni San Filippo erano già noti ai tempi dei Romani e si trovano in una zona di grande interesse paesaggistico e naturalistico. I bagni furono ristrutturati nel 1566 per volontà di Cosimo I dei Medici. Furono frequentati anche da altri illustri personaggi appartenenti alla famiglia dei Medici, come Lorenzo il Magnifico, che vi si recò nel 1485, e il Gran Duca Ferdinando II, che tentò nel 1635 di liberarsi da un persistente mal di capo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Tanta allegria, tanti sorrisi, tanta felicità. Due passi alle terme di bagni di San Filippo. Due passi in paradiso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.